Benvenuti a Pomigliano d'Acco, uno dei quattro siti produttivi di Leonardo Aerostrutture. Io sono Gabriella e sono il responsabile del miglioramento continuo. Sono un ingegnere meccanico e ho conseguito la laurea presso l'Università di Napoli Federico II. In Leonardo mi occupo di garantire la corretta diffusione e applicazione del nostro programma di miglioramento nei quattro siti produttivi di Aerostrutture. Dal 2019 in tutta Leonardo per gestire la complessità dei processi produttivi è stato sviluppato un programma di miglioramento specifico proprio del nostro contesto industriale, il Leonardo Production System o più semplicemente LPS. Il mio lavoro mi permette di partecipare attivamente e trasversalmente alle diverse attività che compongono il mondo dell'operation e non solo. Ciao, io sono Martina e sono laureata in ingegneria aerospaziale. Ho conseguito la laurea triennale presso l'Università Federico II di Napoli nel marzo del 2019 e a partire dal settembre 2021 sono entrata a far parte di Leonardo. Ho avuto la possibilità di entrare in questa azienda grazie all'Esperienza all'Aerotech Academy che si svolge presso l'Aerotech Campus. L'Aerotech Campus, sito qui a Pomigliano Odacco, fa parte della rete di Leonardo Labs, ovvero i laboratori ad arte e innovazione che costituiscono un centro fondamentale per lo sviluppo di nuovi materiali e processi per l'intero gruppo. Attualmente lavoro sul progetto Nemesi, il quale ha come scopo fondamentale quello di automatizzare la linea di produzione dell'ATR e sperimentare le promettenti tecnologie che rispondono al paradigma dell'industria 4.0. Il mio lavoro è caratterizzato da grande dinamismo e inciò mi ha permesso di sviluppare in breve tempo competenze tecniche e gestionali, ma soprattutto una comunicazione efficace ed efficiente, imprescindibile nel mio lavoro in cui il confronto è la chiave principale. I grandi cambiamenti avvengono attraverso la risorsa più importante che abbiamo nei nostri stabilimenti, le nostre persone. Per favorire il cambiamento bisogna lavorare con e per le persone. Leonardo è perfetto per chi ama, accoglie l'opportunità di mettersi in gioco. E per ogni giovane che ama le sfide. Grazie.